Buonasera, buonasera. Con il Beppino che sta per narare Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma e quando? No, mi chiameranno. E cosa che conti? Che racconto? Dipende che mi chiedono. Ho fatto i primi spot con Televignola. Grazie. No, Televignola, eh? No, Televignola, scusate. Televignola. Alla da Baccheria di Marco Bertocchi. Esatto, esatto. Cioè, praticamente, come artista sei nato qua. Sì, sì. Ecco, ma la tua situazione sentimentale qual è? No, lasciamo stare. Ma se tu hai Uomini e Donne devi avere una situazione sentimentale. No, non ho situazioni sentimentali, per fortuna. Sono da solo e sto benissimo. Cioè, single. Single. Ma vediamo lì, se mi piace qualche donna... Eh, eh. Allora veniamo. Ma tu sei stato sposato? Sì, sposato. Eh, va bene, lasciamo stare. Eh, lo so, lo so, lo so. Eh, i problemi, i problemi, i problemi di quei che, eh, si trovano in questa situazione. Ma, eh, quante probabilità che è tenare Uomini e Donne? Eh, Marco, secondo te... Eh, un buon 80%. 80%. E quando? Eh, hanno chiesto il book adesso. No, me li devono chiamare. Eh, secondo te, Cornelio, come è lì? Ma, eh... Ha la possibilità. Secondo me sì, secondo me sì. Tutti mi dicono, ma è Uomini e Donne, ma è Uomini e Donne, vado nel locale e mi dico, ma io ti ho visto a te Uomini e Donne, ero muovato. E così togliamo sta cosa, sto dubbio dalle, da queste ragazze. Eh, e dopo sì. Scusa, e anche per le tue fan, presentate, anni? 36. 36. Alto, un metro e 78. Sì, da sempre a delle altre misure, e no, no, vabbè, dai. Dai, Cornelio. Ma no, ma no, da sempre a delle altre misure che le ha sorpresa, no? Sì. Eh, le ha sorpresa. E, ascolta, e in sti anni qua, non ti hai trovato un'anima gemella? Ma quale anima gemella? Ma che ci sono le anime gemelle? Ah, non ci sono. E professione? Professione? Non lo so, ma vediamo. Fino ad adesso ho fatto il barman, qui arriva, ma vediamo. Quello che c'è da fare, facciamo. Quindi sei in cerca, praticamente, di una donna che ti stia dietro. No, è meglio che si mette la donna davanti, ma che ti stia dietro la donna. Sabevo, sapevo che ne veniva a finire qui. Non è dietro di me, che siete a fare? Sabevo che ne veniva a finire qui, sapevo. Non dietro, ma davanti. Davanti. Ecco, ecco. Pepino. Un saluto a Televignole. Grazie e tanti auguri.